Ciao, ciao a tutti, benvenuti e bentornati sul canale. Oggi video sugli ultimi tre libri letti, giusto, uno, due, tre, e sul libro che sto leggendo al gruppo di lettura della mia città. Questo è Cody che sta aspettando Paolo che scenda dalle scale. Allora, inaspettatamente sono quattro libri di quattro scrittrici italiane. Non l'ho fatto apposta, ma va bene così. Io partirei nel raccontarvi il libro che sto leggendo, ma non sono neanche a metà, ma così vi parlo del gruppo di lettura, che è un'iniziativa nata nella città di Lecco da poco, da poco tempo. Mentre andavo a restituire i libri che prendo in prestito alla biblioteca, praticamente, del circuito interbibliotecario lecchese della provincia di Lecco, alla postazione di restituzione dei libri, questo ragazzo, giovane, molto cordiale, molto gentile, probabilmente mi vede spesso, e così mi ha chiesto notizie, o gli avevo parlato comunque del mio blog di libri, di recensioni libri, che mi piace leggere e poi raccontare i libri, e mi ha chiesto se fosse interessata comunque a partecipare a un gruppo di lettura. Questo più o meno agosto, sì, ho appena tornato dalle vacanze o prima delle vacanze, una cosa del genere. Così mi ha dato un modulo, io l'ho compilato, e ai primi di ottobre mi è arrivata la comunicazione che cominciavano i gruppi di lettura nella nostra biblioteca. Sono andata al mio gruppo di lettura e sono rimasta piacevolmente sorpresa, perché, diciamo, l'adesione è stata tantissima, cioè proprio ci sono state tantissime persone che erano molto interessate, un centinaio di persone, sono riusciti a fare tre gruppi, perché il quarto l'hanno tenuto in sospeso, perché non c'erano più volontari che alla sera, volontari della biblioteca che alla sera avevano dato la disponibilità comunque di lavorare extra per poter gestire e seguire i gruppi di lettura. Un gruppo molto vario, con età varie, diciamo dai 30 anni ai 70 e forse passa, formato principalmente da donne, ma anche con la partecipazione di due uomini più l'organizzatore del gruppo di lettura. Bello, siamo 23 persone, quindi siamo tante, adesso ci ritroveremo il 10 di novembre e dopo aver scelto il libro da leggere, appunto ci siamo dati appuntamento per vedere se puoi fare un gruppo solo, due gruppi, tre gruppi, perché effettivamente con così tante persone penso sia un po' difficile riuscire tutti a dire il proprio parere, quello che ci è piaciuto del libro, quello che non ci è piaciuto, un gruppo molto libero, dove si può anche non leggere il libro perché magari le prime pagine non ci piace, insomma siamo lì per conoscerci, chiacchierare insieme del libro che è stato letto, che è stato scelto. A votazione è stato scelto questo libro, che non so se voi conoscete, dai tuoi occhi solamente, scritto da Francesca Diotallevi. di cosa parla questo libro? Racconta la vita della fotografa Vivian Meyer, non so se voi ne avete mai sentito parlare, io avevo letto un articolo un po' di tempo fa, Vivian Meyer che, diciamo, è diventata, tra virgolette, famosa dopo la sua morte. Da quello che ho capito dal libro, allora è un romanzo, ma basato chiaramente sulla storia vera di Vivian Meyer. Questa fotografa che nella vita fa la tata, ha avuto un'infanzia molto difficile, a volte anche infelice, con una situazione familiare alle spalle molto pesante, e nulla, fa la tata per una famiglia, e le sue fotografie sono tutte fotografie di momenti rubati alla vita normale delle persone. Quindi il barbone che si addormenta sulla panchina, la bambina che si allaccia alle scarpe, cioè tutti questi momenti rubati di vita quotidiana che lei sente l'urgenza di catturare per poter fissare nel tempo e nella memoria. Cioè lo scatto della fotografia è proprio quel momento in cui tu trattieni il ricordo, cioè lo fermi e lo ricordi nella tua vita proprio perché è stata scattata la fotografia in quel momento. Diventa famosa solo dopo la sua morte, muore a 83 anni nel 2009, sola, senza un soldo, non è famosa, senza fama, e sembra che sia di metà famosa perché quando vanno praticamente a svuotare la sua casa trovano nella soffitta tutti questi scatoloni con le istantanee che lei aveva scattato e a questo punto ricostruiscono la vita di questa fotografa. Il libro è scritto davvero molto bene, si capisce già dalle prime pagine, io sono arrivata alla fine della prima parte, si capisce che è una persona, una donna molto complicata, molto sola, che non vuole esporsi agli altri, non vuole farsi conoscere, non so ancora per quale motivo, un romanzo che appunto abbiamo scelto a preferenza, quindi 22 persone hanno scelto, scusate, 12 persone hanno scelto questo romanzo, 11 persone avevano scelto degli altri romanzi. mi sta piacendo molto e sono molto curiosa di vedere quando poi ci ritroveremo qual è il pensiero generale di tutte le altre persone. Sono contenta di partecipare a questo gruppo perché mi dà innanzitutto la possibilità di conoscere persone nuove e questo a me piace molto, conoscere persone nuove con dei pareri diversi, con delle opinioni diverse e anche perché appunto è la prima volta che faccio parte di un gruppo di lettura e così mi intriga l'esperienza, mi piace. Poi vi racconterò il 10 di novembre, ci ritroveremo appunto per il primo incontro vero e poi vi racconterò nelle varie puntate delle letture dei libri come sta andando, che libri abbiamo scelto, però sono davvero molto molto contenta e questo libro mi piace davvero tantissimo al momento. Quindi, dai tuoi occhi solamente, Francesca Dio Tallevi che tra l'altro ho scoperto perché io non la conoscevo che con il romanzo Dentro soffia il vento di Neripozza è arrivata nella seconda vincitrice, scusate, della seconda edizione del premio Neripozza sezione giovane. Quindi, un'autrice che sicuramente andrò un attimo a scoprire. Gli altri tre romanzi che ho letto sono tre romanzi che mi sono piaciuti tantissimo. E di questi tre, due, io ve li consiglio soprattutto se avete delle ragazzine adolescenti che amano leggere, che amano delle storie romantiche, che amano una scrittura pulita, dove pulita, bella, come si può dire? Non so come dire. senza nessun secondo fine, dove non ci sono fraintendimenti, dove non ci sono doppi sensi, dove non c'è un linguaggio volgare, non perché io leggo dei libri volgari, però veramente dei libri che secondo me sono adattissimi come regalo di Natale a delle ragazzine giovani che amano la lettura, che sono romantiche, che amano delle belle storie. E queste due scrittrici, io ve lo confermo perché le conosco da tantissimi anni, sono due scrittrici perfette per romanzi anche adatti a delle ragazze. Allora, partiamo dal primo libro che ho letto di Simona Fruzzetti. Io non so se voi conoscete Simona, io la Simona proprio alla Lombarda. La conosco da tantissimi anni perché ha un profilo Facebook che adesso è un po' meno attivo, ma tanti anni fa quando io ho cominciato a fare il blog di Cucina quindi parliamo di 15 anni fa anche lei aveva un blog e ci siamo conosciute ovviamente solo via web per i nostri blog e lei sia sul blog che sulla sua pagina Facebook racconta in maniera molto divertente e molto ironica. Lei è simpaticissima, veramente simpaticissima. Se non la conoscete poi vi lascio tutte le informazioni nell'info box perché ama l'Inghilterra, ama i cottage, amava la regina ma la ama ancora e ogni tanto sul suo profilo Facebook faceva delle lettere alla regina Elisabetta in un inglese italianizzato e questo inglese io lo capivo, lo capivo benissimo quindi voi andate a leggervi veramente i post di Simona perché è favolosa, racconta anche della sua vita, lei ha una figlia e un marito, il marito lo chiama il santo, la figlia è una bellissima ragazza, una bravissima ragazza, racconta della sua vita in maniera molto ironica, molto simpatica che voi veramente vi divertite tantissimo e ci sono appunto questi post dove lei ha questo dialogo con la regina Elisabetta e io ve la consiglio, ho letto anche altri romanzi di Simona, sono tutti bellissimi ma questo secondo me in particolare è adatto davvero tantissimo alle ragazze, a delle ragazze giovani. Un tè con Mrs. Brown Allora vi leggo un attimino la trama un caratteristico cottage inglese una spruzzata di romanticismo e un pizzico di humor e qui con i romanzi di Simona c'è sempre l'humor ma proprio voi vi mettete a ridere in maniera sfrenata qui un po' meno è un po' più elegantina e io l'ho trovata davvero deliziosa come un pasticcino accompagnato da una tazza di tè cioè il paragone che posso fare è questo bellissimo bellissimo romanzo piacevolissimo da gustare in poltrona soprattutto in queste giornate autunnali non sono ancora fredde sarebbe perfetto se ci fosse una temperatura un po' meno estiva ma va bene così allora Penny Carson è una dolce ma orgogliosa ragazza che gestisce con la famiglia Etty House un bed and breakfast che prende il nome da sua nonna un'esuberante vecchietta che in paese chiamano la vivace Mrs. Brown la vita nel pittoresco cottage situato ai piedi di una delle colline più verdi del Coastworld scorre tranquilla e senza scossoni fino all'arrivo di Greg Turner famoso scrittore londinese che in un momento di grande incertezza lavorativa sceglie proprio quell'alloggio per rifugiarsi l'arrivo dell'uomo sconvinerà l'equilibrio di Penny mettendo in subbuglio non solo le sue certezze in fatto di amore e famiglia ma anche la piccola e coesa comunità del villaggio dove il pettegolezzo e il chiacchiericcio la fanno da padrone tra biscotti al burro tra biscotti al burro vecchiette ficcanaso e nobile donne in cerca di marito Simona Fruzzetti ci regala ironia e romanticismo al profumo di una torta di mele e cannella allora già dalla descrizione voi potete capire qual è l'atmosfera in cui è ambientato questo romanzo ma è davvero una piccola chicca un romanzo davvero delizioso dove sorriderete dove c'è questa nonna che è davvero esuberante e che ha proprio anche delle iniziative un po' fuori di testa è un libro divertente c'è il lieto fine e quindi secondo me è perfetto così per regalarsi dei momenti di letture belle piacevoli pulite che vi regalino un momento di pace di sollievo ogni tanto servono anche queste letture per rilassarsi per godersi proprio parola per parola pagina dopo pagina un romanzo bello piacevole tenero proprio come davvero un pasticcino accompagnato da un buonte inglese quindi io ve lo consiglio Giulia se sei all'ascolto Giulia è una mia amica che mi chiede sempre consigli per la sua figlia che ama le letture questo è perfetto per tua figlia questo è un libro che non è auto vediamo scusate lo stavo guardando la casa editrice ma non ah si no grafica Emanuele Politi per Paolo Paone ok e l'ho comprato su Amazon e mi pare costi sui 14 euro non c'è il prezzo scritto da nessuna parte comunque piacevolissimo davvero davvero piacevolissimo altra scrittrice che io amo e voi lo sapete perché ve ne parlo sempre in tutti questi anni in cui avete magari seguito i miei video sulle letture è Virginia Bramati Virginia Bramati è anche tra virgolette una mia amica perché ci siamo sentiti una volta in cui lei mi chiedeva un consiglio su un filato dove poter utilizzare che poteva utilizzare in un lavoro raccontato in un romanzo sono stata anche citata in uno dei suoi romanzi è una persona piacevolissima una scrittrice bravissima io ho letto tutti 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 i suoi romanzi dal primo all'ultimo ce li ho e tutti 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 i suoi romanzi sono perfetti per delle ragazzine delle ragazze delle donne che amano la lettura una lettura piacevole rilassante con anche dei colpi di scena però tutto in maniera molto armoniosa mi piace tantissimo è una delle mie scrittrici preferite un bacio con gli occhi di cosa parla questo romanzo parla di ve lo racconto leggendolo da qua Agatha si lascia alle spalle i due genitori impegnativi e una vita piena di musica per venire a Milano e specializzarsi in ematologia la sua coinquilina Chiara viene da Lecce e fa il tirocinio come infermiera tanto quanto Chiara è spumeggiante spiritosa e ama i sapori forti Agatha invece vive in una bolla tutta sua è concentrata sul lavoro e si nutrirebbe solo di crackers e riso bianco ma tutte e due sono dotate di una sensibilità preziosa perché ha fatto della cura il proprio mestiere sanno ascoltare e osservare così quando improvvisamente il lockdown impone loro di trascorrere in casa il tempo che non passano in corsia iniziano ad appassionarsi a quello che avviene dietro le finestre dell'appartamento di fronte dove una coppia di fidanzati sembra incarnare il sogno che entrambe nascondono nel cuore tanto che mentre i turni in ospedale si fanno più drammatici Agatha e Chiara si lasciano sul frigo dei post-it per ragguagliarsi sulle romantiche avventure al di là del cortile ma ancora una volta la realtà è destinata a sorprenderle perché il vero amore raramente si esibisce in mazzi di fiori e lucine scintillanti è invece nascosto nel coraggio di chi sa prendersi cura sorridere anche nella sofferenza e se la bocca è coperta dalla mascherina i baci riesce a darli anche con gli occhi allora è una storia d'amore bella con un lieto fine bello quindi già per questo io la sceglierei ambientata in un ospedale milanese ovviamente ai tempi del covid e del lockdown mi è piaciuta per il modo molto delicato con cui racconta Virginia questo momento particolare che abbiamo vissuto tutti chi in maniera più forte chi meno ma tutti abbiamo vissuto questa bruttissima esperienza del lockdown e ci fa anche vedere apre una piccola finestra sul mondo dell'ospedale in quel momento di particolare difficoltà ovvio è un romanzo non ci sono scene cruenti ci sono però momenti commoventi ed è bellissimo come tramite un viso coperto da una mascherina si possa ricevere un bacio anche con gli occhi c'è una storia d'amore ma non vi racconto di più lo sapete perché non mi piace svelare nulla dei romanzi io vi dico solo che è un romanzo che scalda il cuore come tutti i romanzi di Virginia lei ha un talento innato è delicata ha una scrittura molto coinvolgente appassionante e ti sembra di essere nelle corsie dell'ospedale e vedi il dottore di cui tu sei innamorata insomma è un libro davvero meraviglioso delicato delizioso che vi conquisterà gli occhi e il cuore ve lo consiglio tantissimo l'ultimo libro che vi avevo già fatto vedere perché avevo intenzione di leggerlo quest'estate l'ho letto mi chiamano Ada di Simona Toma io mi aspettavo tutta un'altra cosa allora mi aspettavo un libro divertente soprattutto perché la protagonista è una donna del sud quindi prorompente ironica simpatica sì certo Ada e tutte queste cose ma questo libro mi ha fatto riflettere molto sulla situazione delle donne magari in alcune situazioni che si fanno carico dei problemi di tutta la loro famiglia cioè Ada ha un marito che è un esodato ha un figlio che sembra non abbia voglia di far niente si mette sempre nei pasticci ha una figlia che è diventata avvocato ma sta lavorando in uno studio e subisce delle angherie da parte del suo datore di lavoro vive in una situazione economica abbastanza difficoltosa perché è l'unica che lavora ha carico una zia anziana e la mamma che è un po' fuori di testa e tutte queste diciamo sofferenze tutte queste pene lei le offre a una santa a cui lei è molto devota che è Santa Teresina che dice se la sente molto vicina che veglia su di lei e proprio Santa Teresina le darà l'opportunità alla fine di dare una svolta così diversa alla sua vita che sembra una vita davvero che lei non ama devo cercare il termine dato che lei sopporta e che lei accetta perché è una donna a cui è stato insegnato che quello che ti viene dalla vita te lo devi prendere e te lo devi tenere e ad un certo punto capisce che però non è sempre così può fare qualcosa di diverso e è un romanzo che mi ha lasciato un po' la mare in bocca non perché non mi sia piaciuto mi è piaciuto tantissimo ma perché questa situazione secondo me è vissuta ancora da tante da tante donne che accettano quello che la vita gli dà sia di bello che di brutto e alcune volte non capiscono che ad un certo punto ci si può ribellare a quello che la vita ti propone o comunque bisogna provare a farlo per vedere se si riesce a trovare in qualche modo la felicità un romanzo che mi è piaciuto davvero davvero tanto che ha diciamo un suo lato un po' triste ma anche un lato di forza perché questa donna è davvero molto forte per sopportare tante cose e alla fine capisce che può dare una svolta anche piccola alla sua vita con e lo vedrete alla fine bene vi ho dato qualche indicazione vi ripeto appunto se state cercando dei libri per delle ragazze giovani che amino la lettura questi io ve li consiglio perché sono due libri davvero davvero meravigliosi e adatti soprattutto a delle ragazze questo è adatto a delle ragazze della nostra età quindi è adattissimo a tutte questo è un libro che mi sta piacendo molto autobiografico anche se è un romanzo e vi darò poi la mia opinione il mese prossimo quando avrò finito di leggerlo io vi ringrazio vi saluto se vi è piaciuto il video mettete un pollice in su se vi va iscrivetevi al canale se non siete ancora iscritti e vi do appuntamento al prossimo video vi auguro una buona giornata e a presto ciao